Di che cosa è fatto un detergente vetri? È fatto di una bottiglia di plastica, di uno spruzzino, di acqua e di una parte concentrata. Allora noi vendiamo solo la parte concentrata. Perché pagare tutto il resto? Come aiuta i consumatori ad evitare gli sprechi? La cosa più inutile è l'acqua. Se ci pensiamo bene noi vendiamo tanta acqua. Perché vendere dell'acqua? Perché ce l'abbiamo tutti in casa. Dov'è la logica per questo? Allora, basta fare una piccola operazione in più in casa che è aggiungere acqua e tu hai esattamente lo stesso prodotto di prima e non hai pagato l'acqua. Questa è la grande idea. Abbiamo tolto la cosa più inutile e che tutti hanno a casa. Come avete scelto questo film in plastica idrosolubile? Noi volevamo dare e vendere solo il potere pulente. Chiaramente questo concentrato doveva essere contenuto in qualche cosa. e l'abbiamo messo in questo film di plastica che lo racchiude, lo protegge e poi al momento del contatto con l'acqua si scioglie e otteniamo il nostro normale detergente multiuso. È stato fatto anche a prova di bambino, che tutti i bambini sono curiosi e si divertivano da matti a rompere questo prodotto. Adesso non ci riescono più.